Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre provisioni per la giornata di martedì, che vedrà il ritorno di un pochino di variabilità nelle regioni settentrionali per l'arrivo di correnti un po' più umide da ovest, ma in realtà con fenomeni che rimarranno confinati alle zone montuose e le vicinare pedemontane. Se controlliamo infatti la provisione della nuvolosità attesa sull'Italia, in realtà vediamo ampie zone di sereno nel nostro paese, però poi queste nubi da ovest raggiungono le regioni settentrionali, nella seconda parte del giorno daranno luogo anche a qualche acquazione e qualche temporale. Lo capiamo dalla previsione delle precipitazioni con appunto il ritorno di molta variabilità nel pomeriggio sulla fascia alpina, prealpina e le vicine zone pedemontane, invece situazione oggi più tranquilla al centro-sud. Quindi in definitiva, ci attendo un martedì estivo nelle regioni centro-meridionali, un minimo di variabilità sull'Appennino, soprattutto quello meridionale, ma nel complesso bella giornata di sole e con temperature estive fino a 30-32 gradi. Torna invece qualche temporale al nord, in realtà vi dicevo soprattutto Alpi, prealpi e vicine zone pedemontane, ma localmente potranno scendere anche verso la pianura piemontese, Lombarda, anche verso l'Alto Veneto e coinvolgere in parte la Liguria. Però fenomeni di passaggio e di breve durata, ma a questo punto al nord, lieve calo delle temperature, special nord-ovest. Per tutte le taglie e comunque sulle vostre località, consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.